E non ho capito cosa vuol dire quello che è scritto E ce ne andiamo in serie A E non ho guardato la partita Ciao bella, ciao Ah no ma uno mi chiede se sono incinta Ma raga Posso chiederti di dove sei C'è una ragazza in alcezio disarmante, grazie Ma quando... no scusa Tutto bene, grazie Che hai fatto stasera? Sono uscita con Anna in centro E dopo sono tornate E ho fatto la live Ma... Cosa ho scritto? Ah sì Trieste e Slovenia ha detto questo Ciao, ciao Giovanni Ma fai l'università? No, faccio ancora liceo Faccio liceo scientifico tradizionale Puoi consulare a Giovanna? Si è appena lasciato No, cioè è appena stato lasciato Mi dispiace Giovanna Mi dispiace Cioè non so bene come consularti Come stai? Bene, grazie tu Sei stupenda, grazie Quanto sei alta? Quanto sei alta? Tanto Uno è... 78 Una cosa del genere Oddio, ciao Aurora Penso Cioè mi è tipo parso Boh, in caso ci sei ciao Grazie Manuel per avermi iniziato 1,78 Come mai così tanto hai fatto sport da piccola Allora, boh Mio padre è olandese ed è tanto alto Quindi sicuramente quello Cioè il fatto che sia tanto alto Cioè infatti in famiglia siamo tanto tutti gli altri E poi, boh Ho fatto basket Per un bel po' di anni Ciao bella Ciao bella Ciao Giuseppe La tua squadra è il cuore Non è tipo calcio Fai sport? Facevo basket Fino all'anno scorso Hai La maturità? Quest'anno no Mia sorella ce l'ha Questa qua Di perché parla Sto bene Dove vieni? Dal Friuli Ma così bene Sempre tu Grazie Di dove stai? Dal Friuli Con la tua altezza potresti fare la modella No, credimi che non ho il fico da modella Serve Un centro vieni Ma no Cioè Se parli del Del basket Ho lasciato Cioè ormai è È passato Mi son fatta male E niente Quanti anni avete di differenza? Due Ah così capite quanti anni ho Se lei ha la maturità quest'anno E abbiamo due anni di differenza Io sono due anni più piccola Lebron Ho detto ad un orfano che deve togliere Due giorni al calendario solare Perché? Di che anno sai? Non ricordo Eh non posso dirlo perché mi bannano Sì raga Cioè io spero veramente che Se lo scrivete voi Non mi bannino Oddio Grazie Flori Grazie per le rose Cioè spero davvero non mi bannino Se almeno Cosa ti sei fatta male? Alla caviglia Mi son fatta male Alla caviglia Wow pensavo più grande Sei proprio bionda Sì Sono proprio bionda E al contrario Digli gli anni Ehm 6002 Sui giri spondi Dipende A certi sì Al contrario Ah questo l'ho già letto Grazie Flori Grazie mille Mandoi un saluto con la mano Con la mano chiusa Di dove sei? Del Friuli Buonanotte Saluti a Sicilia Buonanotte Domenico Saluti al Friuli Completamente Dall'altra parte Dibiamo quanto sei bella Grazie Ho dato le tasse finalmente Cioè sono Donato Sei bellissima Ciao Donato Grazie Prototipo ragazzo ideale Guarda Io non ho Un ragazzo Anna potresti passare Leggermente il volume No Ah scusa Non mi sono resa conto Non ho tipo Un tipo ideale Esteticamente Però Cioè tipo Non so Non so come spiegare Cioè tipo Mi devo trovare bene Capito Cioè tipo Quelle persone Con cui esci una volta E non c'è imbarazzo Non c'è niente Cioè che capisce La persona giusta Cioè non riesco Ad avere un prototipo Di ragazzo Non lo so Facciamo i saluti Età massima E minima Del ragazzo Guarda Non lo so Cioè mi sono piaciuti Da 2008 Cioè più piccoli Cioè più piccoli di me Ma più piccoli A 2000 e Il ragazzo più grande Che mi è piaciuto 2003 Indifferente Indifferente Cioè io sono Dell'idea Che l'amore Non ha età Quindi Cioè L'importante Che mi piace Basta Cioè che ci si trovi bene Peccato Peccato Le unghia Quanto segno Cassia Grazie Ciao Ciao Che occhi Grazie Ti metteresti con 1 ai 25 anni Oddio 25 Un po' grandino Cioè Abbiamo quasi 10 anni Di differenza Quanto sei alta 1,78 Circa Sei così Anche i bambini Cosa anche i bambini Come ti chiami su G Ce l'ho scritto Nella bio Basta che scaccia sul mio profilo Come apprezzare dal vivo Con una ragazza Allora Io sono un po' particolare Cioè tipo Che ne so Su Instagram Solitamente se mi scrivi solo Ehi Quelle robe banali Non rispondo Perché Cioè Indifferentemente Da chi sei Cioè magari sei un buono Surdo Cioè se scrivi solo Ehi Così Non lo so Dal vivo Ti posso dire Come farebbe Viccerame Non lo so Non so Tipo Non so Raga Mi imbarazzo Per parlarne Sai che Dopo dovrei rispondere A tutti i tuoi fan Su Insta Comunque L'unica roba Che posso dire È tipo Che non Non bisogna fare Battutine Così del genere Per approcciare Per approcciare No Quello no Quello non penso Faccia piacere a nessuno Sembra che hai 20 anni Ti è mai piaciuta una ragazza? No Non ho 15 anni Di dove sei del friuli? No zia Non puoi avere 15 anni No raga Non ho 15 anni Cioè Quando tipo Ha detto Ti metteresti con noi 25 Ho detto A me ho quasi 10 anni Di differenza